Primi giri sul circuito di Fiorano per la nuova Alfa Romeo C39 con Kimi Raikkonen alla guida Primi giri a Fiorano per la nuova Alfa Romeo C39 con Kimi Raikkonen alla guida In attesa del debutto ufficiale fissato per mercoledì 19 febbraio a Montmelò in Spagna Il team Alfa Romeo Racing Orlen ha sfruttato la giornata del 14 febbraio per effettuare una sessione di filming day sulla pista di Fiorano di proprietà della Ferrari Una monoposto che presenta una livrea speciale anticipata sui social per celebrare i 110 anni di storia del marchio Alfa Romeo che ricorrono nel 2020 Una livrea che molto probabilmente sarà diversa da quella definitiva che verrà svelata in Spagna per la presentazione ufficiale Come sempre numerosi gli appassionati accorsi a Maranello a bordo pista per non perdere l'occasione rara di vedere da vicino i primi metri della nuova monoposto Alfa Romeo